un gioco ai magli a 64 aspettate che si parte qua c'è piccia a mangiarla per la testa molto carino da parte di piccio questo è il naso questo è Luigi e questo è Wario Luigi è fratello e Wario è Luigi è meno cattivo e adesso entra dentro il castello chi è questo eppure duo? Che cosa fa? Dormi? indovinate chi è? il Yashi si è proprio lui Yashi e infatti la titola ha svegliato ci è riuscito ma cosa fa adesso? si rialza perché vuole aiutare i suoi amici è coraggioso a volte quando vuole riuscire pensare che questo dinosauro sia un stupido che riesca soltanto a dormire è coraggioso quando vuole ebbene, bravo ma adesso l'abbiamo infatti dobbiamo cercare di farvi vedere come sbloccare Wario Luigi ecco ci siamo ecco ecco Grazie a tutti. E adesso cerchiamo di arrivare dentro al cannone, però senza 150 stelle. Scusate per prima che mi si è bloccata la macchinetta, allora non sono riuscita a continuare il video. Ho preso le misure trastiche e adesso infatti ci sono arrivato con buone misure trastiche. Vedete? Sono sul tetto. Eccoci alla terza parte del nostro caro video. L'ultima volta ho fatto vedere come sbloccare il cannone e come salire sul tetto. Adesso... Scusate ma mi è cascata la macchinetta e boom! Cioè sotto questo quanto... S'è cascato il libro perché devo tenere la macchinetta con il libro, altrimenti con il Nintendo mi riesco bene a giocare. Allora... Ecco... Continuiamo il nostro caro video. Andiamo... E' all'imprevisto, non me l'avevo mai aspettato. Beh, vabbè ho tagliato corto, scusate. Andiamo... Adesso noi dovremmo atterrare verso la torre, però non ci siamo riusciti bene. Purtroppo è andato male. Di nuovo ho tagliato corto. Perché devo cercare di atterrare sulla torre. Dobbiamo forza a trovare il livello segreto. Ecco... Ecco... Per entrare a quel livello segreto ci sarà... Quello livello segreto vi permetterà di sbloccare Wolverine. Ecco, rientriamo nel castello adesso. Pregniamo Mario. Pregniamo Mario. Andiamo nel cannone. Andiamo nel cannone. No, nel cannone. Andiamo sotto. E no, prendiamo il cannone. Pregniamo Mario. E' difficile. Pregniamo. Pregniamo. Vabbè, proviamo. Ragazzi, il modo migliore per andare dall'albero sull'acqua è andare giù... Infine, all'albero. Cioè, sotto vicino alle radici. Dobbiamo lanciarci. Ecco così. Però... Questo è un consiglio perché si fa più velocemente. Altrimenti poi non ci si riesce. Andando dall'alto dell'albero. Vabbè... ... Scusate. non iniziamoci no sbagliato ma ragazzi qua vi sbaglierete un po' eh perché sott'acqua qua è un po' difficile galleggiare ma siamo un po' più abituati ecco adesso andiamo in fondo andiamo 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 ciao finito amici abbiamo finito il nostro caro video io sono fabio e vi auguro che questo video vi sia stato utile per sbloccare warrigi magari su youtube vedrete anche altri miei video su mario e mario kart e altri altri video beh comunque ciao andate a guardare altri miei video ciao 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 ciao